Sì, ma sono particolari. Allora, se mi ricordo, prima di andare a casa, una l'ho tenuta e me la sono messa in macchina e ho detto voglio farvi vedere una risa perché sono troppo particolari, non sono più particolari. Ti ricorda che è un piccione, sono piccione, piccione, però guarda. Poi, un'altra volta, esplosiamo, si è andata con la primavera, poi non si è andata con la primavera, poi non si è andata con la primavera.